A Genova va in scena la sfida valevole per la dodicesima giornata del Gione A di Serie D tra Ligorna e Città di Varese. Biancazzuri riduci dalla vittoria contro l'Albenga dalla sconfitta in trasferta contro la Fezzanese. Lombardi attualmente noni della classe e riduci dalla sconfitta contro il Chieri dalla vittoria contro l'Alba. La partita comincia con i Biancazzuri sugli scudi. È loro la prima occasione trasformata in gol da Luca Miracoli al quarto minuto grazie alla deviazione al volo su cross dalla destra di Tussellino. È il terzo gol per il bomber ligornino nelle ultime tre partite. Ancora Biancazzuri al ventitreesimo con Rimondo che mette in mezzo da sinistra un pallone su cui si avventa lo stesso Miracoli la cui conclusione al volo è però debole. Al ventitreesimo esce dal guscio al Città di Varese con la punizione di Vito Francesco dal limite ma Zori respinge il pericoloso tiro rasoterra. Al venticinquesimo ancora Varesini con la conclusione da fuori di Mandelli ma la sfera termina alta. Al quarantesimo Ligorna protesta per questa trattenuta in area su Miracoli ma il fischietto lascia proseguire e si va così a riposo sullo 0-0. Il secondo tempo si apre con la conclusione di Di Masi con il mancino con Cassano che difende i pali deviando alla sua sinistra. Il duello si ripete due minuti più tardi con il siluro di destro dello stesso Di Masi sul quale l'estremo difensore si fa trovare prontissimo. Al cinquantaquattresimo ancora Ligorna con la volia di Squarzoni e Cassano che interviene nuovamente alla sua sinistra. Al sessantesimo si fa vivo il Varese con il colpo di testa di Bernardi sugli sviluppi di un calcio di punizione ma il pallone termina lato. Ancora Varese con una conclusione del cuore dell'area che termina però alta prima del diagonale a sessantanovesimo da parte di Bertazzoli che termina alla destra di Azzori. Nei minuti seguenti tiro cross sempre da parte di Biancorossi con Azzori che si fa trovare pronto tra i pali salvando così il vantaggio così come anche dopo un minuto sulla conclusione di Mandelli deviata alla sua sinistra. Miracolo un minuto dalla fine dello stesso Azzori sul colpo di testa di Guri indirizzato nel settima respinto dal portiere. Quando Ligorna sembra portare a casa i tre punti arriva però la doccia fredda con la rete al volo di Liberati dal cuore dell'area per il pareggio del Varese. Ligorna protesta per il contatto su Azzori in volo per la trattenuta in area su Tancredi e per il contatto su Tussellino ma la terna arbitrale convalida la rete del definitivo 1-1. Questa è l'ultima occasione della sfida, un punto per parte tra Ligorna e Città di Varese. Grazie.